A casa dei nonni abbiamo pensato di fare questo video Indovina la password Che consiste? Ognuno di noi scriverà una password e la dobbiamo semplicemente indovinare Farà un video lungo e difficile Allora, scriviamo la password Ognuno scriverà su qua Ok, io ho scritto la mia Vai 4689 4689 L'otto è nella posizione corretta L'otto è il terzo numero Esatto Fatti le lineette così capisci che è il terzo numero Tipo Tocca a me Allora 9754 Niente Vai tu 4687 Vai Ah, io 8493 Hai detto l'otto Però non è la prima cifra Quindi Quale cifra è? È l'ultima Ok 46 Hai detto? 933 866 933 E' pure il 6 E' nella terza numero Poi, 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 poi Vai, vai tu 6, 7 Quindi più qua Senti bene 6, 7, 8 5 6, 7, 8, 5 Allora, hai detto il 5 della seconda posizione Vediamo chi indovina prima Vai, veloce, veloce, veloce 7, 5, 6, 8 Hai detto già l'8 Hai detto già l'8 Eh, vabbè, sì 7, 5, 6, 8 6, 8 L'ho indovinato Questo lo so, ma hai detto prima 7, 5 l'ho indovinato Ok, vai tu Vai 12, 8, 6, 8, 5 Vai 4, 3, 6, 8 Il 4 è nella posizione Mi manca una cifra Mi manca Sono una cifra Vai, vai Seconda cifra Ah, il 4 è la seconda E vai, ah Vai, 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 vai 5 Vieni, come lo sento Vai 5, 8, 8, 9 5, 8, 8, 9 5 l'hai indovinato Nella seconda Seconda cifra La prima Ti stai indovinando Tu i numeri Ah, ah, ah Ti ha Ma vabbè Allora, tu devi indovinare La prima e l'ultima cifra Ah Lo vinco io, sicuramente 1, 4, 6, 8 Ho indovinato Dopo 3 minuti E 18 secondi Mamma Paola Ha indovinato La password 1, 4, 6, 8 Ma tu timbappini, amore Timbappini Timbappini Arrivederci Salutici, arrivederci Ciao Ciao